Alla scoperta dei candidati al Consiglio regionale pugliese, è la volta di Michele Mazzarano, candidato con il Partito Democratico. E allora, Mazzarano, intanto una sua presentazione, chi è Mazzarano e le ragioni per le quali lei si ricandida. Ma io ho già collaborato con il Presidente Emiliano in questi anni perché questo territorio diventasse più importante e più centrale tra i territori pugliesi. E notevoli e innumerevoli sono stati gli investimenti e l'attenzione che innanzitutto il Presidente Emiliano ha dato a questa terra. In modo particolare gli investimenti sull'urbanistica, gli investimenti sulla sanità, la nascita della nuova facoltà di medicina, lo spostamento di un grande evento culturale e musicale come il Medimex da Bari a Taranto. Ci sono tanti segnali che meritano di essere portati avanti, tanti avvi di progetti che meritano una continuità. E sulla base dell'esperienza accumulata in questi anni, sono stato anche assessore allo sviluppo economico che ha destinato numerose risorse economiche a questo territorio, all'aeroporto, allo sviluppo delle aree industriali. C'è bisogno che questo lavoro vada avanti e che soprattutto la Puglia e Taranto non tornino indietro, non tornino agli anni in cui invece c'era assoluta marginalità e assoluta dimenticanza delle potenzialità di questo territorio.